Con una selezione di canti goliardici della tradizione eseguiti da gruppo musicale I Tarocchi si è concluso alla Biblioteca della Regione il ciclo di conferenze collegate alla mostra studenti del Piemonte e sei secoli di università a Torino. L'allestimento, curato da Marco Albera, propone un curioso spaccato del mondo studentesco universitario che raccoglie diplomi e tesi di laurea finemente rilegate, foto di gruppo, manifesti e testimonianze della goliardia. Un prezioso intreccio di microstorie individuali che concorrono a definire lo scenario di una storia collettiva. La mostra rimane aperta fino al 26 febbraio da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Primavera la marciata d'un cuore e nell'aria con un uomo di violi, sotto il peso e il prode si sussurra la parola, lo studente e la santina dirittica, giugadenti, prodezze, illusioni, facciadenti, chiarezza e passione, lo studente ha avvisato, se tu un pazzo fa il romano, il peccato si può perdonare. Diva Torino, città delle belle donne, noi siamo le colonne, noi siamo le colonne. Diva Torino, città delle belle donne, noi siamo le colonne dell'università. Era il sissi, era il donno, era il che lo voleva, era il che lo voleva. Era il sissi, era il donno, e a lei che lo voleva e a lei che lo viva, come parlo, oh, oh, come parlo, oh, oh, a far la guerra, a far la guerra. Come parlo, oh, oh, come parlo, oh, oh, a far la guerra senza il caldo. Come parlo, oh, 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 oh. Come parlo.